Colorificio Cavese è dal 1988 il tuo riferimento per le piccole e grandi manutenzioni. Lo trovi a Cava dei Tirreni in via 25 Luglio 87. Tutto pronto a Dragonea di Vetri sul Mare con il tradizionale appuntamento con la festa del fungo porcino, che ritorna dopo due anni di assenza. Mercoledì 10 e giovedì 11 agosto, presso il santuario di San Vincenzo, a partire dalle ore 19 e 30, sarà possibile degustare prelibatezze culinarie e assistere a spettacoli dal vivo. L'evento è organizzato dall'Associazione Amici del Santuario di San Vincenzo e ai nostri microfoni il presidente Luigi Raimondi ha illustrato nel dettaglio il programma di queste due imperdibili serate. Ricominciamo. Dopo due anni di pandemia riprendiamo con l'organizzazione della festa del fungo porcino a San Vincenzo di Dragonea. Per l'occasione mi corre l'obbligo di ringraziare il reverendissimo padre Abbate, Michele Petruzzelli dell'abbazia di Cava dei Tirreni, per la concessione del chiostro e del giardino del convento, attico alla chiesa di San Vincenzo. Saranno due serate date a scorrere tutti insieme, a fresco della collina e di questi tempi una cosa positiva, dove sarà possibile degustare delle vere e prelibatezze culinarie, come ad esempio le pappardelle ai funghi porcini o le zeppole preparate dalle nostre associate, guidate dalla signora Antonietta, dove sarà possibile inoltre ascoltare della buona musica, dell'ottimo gabarè, con la partecipazione direttamente da Made in Sud del professore Enzo Fischetti. Questo nella serata del 10. L'11 sera ci sarà il gruppo etnopopolare Le Linfe della Dammurra, davvero brave e che sono richiestissime. Sarà un piacere ascoltarle.